buongiorno carissimi miei amici amanti dei camion vintage guardate cosa vi presento il lancia esa gamma e del 1968 di gino del mese di novembre che è stato operativo per oltre 40 anni 42 42 per la precisione guardate qua il lancia esa gamma adesso ve lo mostro bene purtroppo non posso togliervi il telo perché ci sono nidi di api ve l'avrei tolto però non voglio incorrere appunto a spiacevoli sorprese vieni zino darsi qua tutte le caratteristiche di questo camion vieni vieni il camion è lancia il motore è alfa 1000 pullman a sciogliola il cambio è del fiat 682 n3 tre case manca l'om dell'om c'è la dinamo pompa perché con la pompa idraulica per l'idroguida perché all'idroguida zf tedesca e questo camion era nato come due assi è nato due assi nelle nostre ufficine l'abbiamo allugato ha messo il terzo assi come stile lunghezza totale 12 metri 12 metri 10 metri e 30 di carico utile e si dicono ma i nostri amici ci dicono ma come mai hai fatto tutte queste modifiche e perché bene andava bene così e del 79 prendevo tutti i soldi facevo 660 chilometri al giorno due viaggi a volizia portare i contai e prendevo 390 mila lire al giorno al giorno adesso i conti sarebbero 4 milioni e 700 mila lire al giorno ecco vieni qua gino spiegaci in modo da tutti questi modifiche che hai fatto qua cosa possiamo vedere qua quella di dietro vedi il la dinamo pompa la dinamo pompa dell'om del titano dell'om del titano questo è un compressore doppio e dell'amarelli dell'amarelli più avanti di qua e del motorino avviamento motorino avviamento e se guardi sotto di là vedi il cambio il cambio ecco quello l'82 è il cambio dell'82 dell'n3 insomma praticamente un cambio che pur di tenerlo in vita gli hai messo qualsiasi pezzo giusto? si insomma non l'ho mai in tanti anni non l'ho mai rotto niente bravissimo gino perché ogni tanto anche giusto fare queste modifiche pur di tenerlo in vita no ma le modifiche fate una volta solo quando lo abbiamo allungato e fatto nelle nostre ufficine e poi mi hai messo speso un soldo bravissimo gino il differenziale è del tipo speciale perché in 42 anni a corso mai stato registrato niente perché la corona cilindrica è a spina pesce la spina pesce cioè c'è un'inclinazione una parte e una che è l'altra il terzo asse è sollevabile anche stracciante è sollevabile e bloccaggio per andare dietro in che anno è che hai deciso di cambiare da due assi a tre assi? nel 78 vieni vieni geno che siamo giusti qua ah nel 68? nel 68 si ecco attento che non c'è nessun camion che abbia quello che è questo qui perché guarda sotto lì vieni qua si si eh perché eh 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 sotto qua ti fai la fotografia e ti guardi cosa che vieni sotto eh 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 dopo dai arrivo si vede? si ecco ecco vieni tu da dire cosa che c'è cos'è che c'è? qui in fondo ha fatto cosa che c'è? no 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 vieni qui 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 ecco la anzi a tromba che mi quando che qualche non suonava perché perché ero piccolo io lì ah ah adesso non suonava tromba aria per dire io non suonava altro bravissimo geno eh sì ed eccoci qua andiamo a completare qua il camion carissimi amici guardate qua i l'asse l'ultimo l'asse che è il terzo asse è Ceschi Verona Ceschi Verona insomma ti ha fruttato bene mentre il terzo asse perché hai fatto diversi trasporti noi c'è paio tanti schemi perché fassi il presso e fassi l'ubilico ah ecco vedi tu fotografa qui guarda no cos'è che c'è? per tenere chiuso il tubo di scarico quando metto in moto cavo via che là non fanno più il fumo perché non vanno aria bravissimo e comunque il camion te Gino lo tieni sempre sì sì non lo vendi bravissimo Gino ecco qua qui c'è il camion eccolo qua il cambio il famoso cambio del 682 è l'82 N3 N3 guardate qua il cambio 682 N3 abbiamo visto e questo c'è il motore vedi tu che ha tre teste tre teste sì c'entri e e con tre teste a pompa innessione vedete qua per traverso e diametro dei pistoli e se dove di sigla come l'82 ah come l'82 ottimo vediamo qua ecco qua che andiamo a concludere il filmato guardate qua lancia esagama E del 1900.68 abbiamo detto va di piano no no vado piano qua tranquillo che il Marvin c'è eccoci qua perché bisogna stare attenti qua anche queste api per concludere il filmato ecco Gino dai io sono arrivato vai tranquillo eccoci qua carissimi amici guardate lancia esagama E che ha lavorato oltre 42 anni di Gino l'ha reso funzionale aggiungendo un terzo asso insomma gli ha dato vita a lui non importava se i pezzi erano dell'alfa dell'ene l'importante è che il camion andava avanti produceva faceva lavoro si prendeva tanti schei ecco insomma ed eccoci qua grandissimo Gino che l'hai tenuto hai resistito a tutti quanti insomma chi vuole lo vuole qualcuno prendere però tu gli dici sempre no 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 bravissimo Gino è che ha un'idroguida ha un'idroguida che si meglio di una vettura meglio di una vettura ricordatevi idroguida meglio di una vettura carissimi amici una volta ho caricato 250 quintali 250 quintali e c'era tutto sul carico davanti che noi davanti scegnava guardate qua qualche dettaglio vediamo un po' ecco qua la calandra vedete qua c'è un nido di vespe o di api via 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 bisogna stare attenti io vi ho fatto vedere un po' anche qua la calandra ed eccoci qua grazie Roberto grazie Roberto è Roberto il mio presidente dei camion storici grazie Gino ecco stante io dovevo fatto con 250 quintali e non davanti scegnava forti sono andato in strada e gli ero duro a stasciare fatti 200 metri e ho sentito e basta come se fossi vuoto perché quando mi ha detto che sull'idroguida ha una valvola autocompensatrice e ora che si vuoto carico a destra a sinistra ti fa sempre due piedi da una parte e due piedi sempre una ventura ecco niente voglio appunto concludo qua il filmato grazie a Gino concludo qua lo dedico a tutti gli appassionati di camion agli appassionati perché c'è il mio presidente che è il presidente dell'Aite ecco qui lo saluto saluto appunto Ruffino Maurizio che mi aveva detto vieni a vedere i miei reperti e ricordiamo anche qua i camion storici nord-est di Biondo e Stefano Zanetti eccolo qua carissimi qua il report del Marvin l'ho fatto spero che siate contenti grazie a Gino mi raccomando tieni sempre questo camion sì sì lo tagliano fino alla fine insomma no ma attento forse fra un mesetto che prima lo porto via da qua lo porti via? ah siamo arrivati sì ma lo porto soffettrite siamo arrivati in tempo allora ma no c'è il capannone ah c'è il capannone ok bravo 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 Gino saluti a tutti